Musica Siamo qui ad Adegliacco, frazione di Tavagnacco, con un bellissimo principio di primavera qui accanto. L'albero è quasi in fiore, alle mie spalle vedete lo storico mulino di Adegliacco. Questo mulino è datato per quanto riguarda il suo corpo centrale dal 1400 in funzione circa fino agli anni 90, poi ampliato ed oggi trasformato in immaginario scientifico. Durante questa mattinata andremo a capire che cosa si fa all'interno di questa struttura, le tante attività didattiche e scientifiche dedicate soprattutto alle scuole e andremo anche a raccontare e a svelarvi i meccanismi perfettamente funzionanti delle macine di questo davvero suggestivo mulino. Allora l'invito è a rimanere con noi perché stamattina ad Adegliacco ci sarà tanto tanto da scoprire. Eccoci qua dunque pronti a raccontarvi assieme a Glenda Nicola che è la referente per la sede dell'immaginario scientifico qui ad Adegliacco di Tavagnacco. L'avete visto prima il mulino Dominissini, un mulino che ricordavamo fonda le sue origini ben nel 1400. Esatto, il mulino Dominissini risale al 1400. La parte più antica consisteva in una, la potete vedere nella parte in cui l'edificio ha il muro con le pietre a vista, era un edificio singolo ad un piano in cui all'interno ci sono i laminatoi. Al tempo ce n'erano addirittura tre, si vedono infatti che ci sono tre setti per le tre ruote che permettevano alle mole di girare. Ricordiamo che questo mulino è stato realizzato lungo la roggia di Udine che è una delle tre attraverso le quali poi si è costituita nei secoli la rete che ha lambito la città di Udine. Esattamente sì, sorge sulla roggia di Udine. È una serie di cinque mulini che vicini tra loro sorgono su questa roggia. Continuando a raccontare la storia di questo mulino, fino a prima delle due guerre mondiali ha funzionato ed è stato ampliato poi naturalmente con le vicende belliche ha subito dei danni e poi è stato rimesso a nuovo. Esattamente ed è stato in funzione fino alla fine degli anni Ottanta. Dopodiché è stato donato al comune di Tavagnacco che l'ha ristrutturato e dal 2011 è in gestione all'immaginario scientifico che vuole farlo conoscere. Siamo arrivati all'interno per mostrarvi dunque questo splendido mulino. Qui ci sono visibili due sistemi di macina, uno più datato, quello storico, e poi quello che ha funzionato sino alla fine degli anni Novanta, giusto? Esatto. Da questa parte, quello al momento inquadrato, è la macina più antica. Rissale al 1400 ed è formata da due mole, due ruote in pietra collegate a dei sistemi degli ingranaggi collegati alla roggia che permettevano di macinare i cereali. Sopra alle due mole, vedete, in legno c'è una tramoggia che serviva a far passare i cereali tra le due macine. Cereali portati appunto dal mugnaio Duminissini che arrivavano dai campi della zona, naturalmente. Esattamente, sì, sì. Da questa parte invece vedete il laminatoio, la macina più moderna. Risale alla fine degli anni venti ed è attualmente ancora funzionante. Viene messa in funzione periodicamente dai tecnici del comune di Tavagnacco. Quindi possiamo raccontare che qui la farina può ancora uscire da questa? Esattamente, sì. Si riesce ancora a macinare il grano. Meccanismi veramente molto complessi che ancora oggi dimostrano insomma la loro realizzazione fatta davvero a regola d'arte. Esattamente, è una macina a rulli. All'interno del macchinario ci sono cinque rulli in grado di ruotare indipendentemente lungo i loro assi e possono avere una distanza variabile tra di loro in modo da poter macinare in maniera più o meno fine i cereali. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti che siete pronti ad ospitare qui all'interno, possiamo dare qualche riferimento utile? Sì, ci sarà una visita al mulino il 19 marzo con tre appuntamenti alle 11, alle 14, alle 15 e 30. In più, un altro evento del mese prossimo, parliamo in questo caso dell'8 aprile, ci sarà la notte immaginaria aperta ai bambini che vogliono passare una notte particolare all'interno del mulino insieme ad un personaggio famoso. Immaginiamo la curiosità quando entrano qui all'interno della struttura. Esatto, sì sì, la notte è particolare, nella notte prossima ci sarà un personaggio che i bambini incontreranno, che è Yuri Gagarin. Avranno la possibilità di scoprire che cosa è successo ai tempi, quando un uomo è arrivato nello spazio. Eccoci qua sempre in compagnia di Glenda, quello che vedrete tra poco grazie al nostro Fabio Di Bernardo sono delle installazioni che appunto hanno aiutato i ragazzi a capire l'origine della terra attraverso veramente dei flash impattanti. Sì, è una mostra tramite la quale e attraverso questi fogli bianchi, fogli di carta, si riesce a vedere quanto è stato lungo il percorso della terra, le etichette colorate che vedete sporgere, sono degli importanti step entro i quali la terra è passata e ci dà delle grosse informazioni su quello che è accaduto. Quindi possiamo vedere le varie ere geologiche, un foglio di carta in questo blocco rosso corrisponde a 100.000 anni, poi scorrendo per quanto riguarda gli altri blocchi si arriva a ridurre il valore del singolo foglio a 25.000 anni, a 1.000 anni e fino a 10 anni il periodo naturalmente della comparsa dell'uomo. Esatto, più vicino a noi vediamo che gli eventi sono più frequenti, quelli che tra virgolette ci interessano e anche ogni foglio in questo caso ci mostra che vale un tempo minore. Sicuramente per i ragazzini è un sistema che aiuta a capirne di più, naturalmente è proprio questo, lo stiamo raccontando durante la mattinata, il significato dell'immaginario scientifico, far capire la scienza con metodi semplicissimi e informali. A proposito delle varie attività che all'interno del mulino di Adegliacco si portano avanti, Glenda ci dà anche qualche altra curiosità. All'interno del mulino ci sono delle attività legate all'infanzia in cui si fanno dei laboratori a tema scientifico adatto ai bambini della scuola materna. Un esempio può essere, un titolo di un laboratorio può essere ad esempio Illuminiamoci, è un laboratorio legato alla luce, che cos'è e come si comporta. Un altro titolo che vi posso dire per farvi un esempio è, ad esempio, il Segreti del Bosco, è un laboratorio in cui si imparano a riconoscere le tracce degli animali nel bosco e i loro versi. Naturalmente poi avendo a disposizione il mulino e le macine che abbiamo visto prima si racconta anche qualcosa di scientifico sui cereali, sulla loro macinazione. Esatto, la visita al mulino consta di due parti. C'è una parte iniziale prettamente storica legata alla struttura del mulino e alle macine. La seconda parte è invece legata, è più scientifica, è legata ai cereali, ai semi, alle farine, alle tipologie di farine, ai tipi di semi, come riuscire a riconoscerli. E' una parte legata ai cereali dal punto di vista scientifico, fisico, in quanto materiali granulari, materiali costituiti da granelli macroscopici separati l'uno dall'altro. Siamo usciti dal mulino e terminata la visita all'interno di questa suggestiva struttura con Glenda. Siamo a raccontare anche dell'opportunità di questo parco aperto vicino alla scuola materna di Adegliacco, dove tutti possono venire ad imparare un qualcosina in più sulla scienza, a partire da questi specchi alle nostre spalle. Esatto, questo si chiama Parco per riflettere ed è un'estensione pubblica dell'immaginario scientifico. In questo parco potete venire, oltre a fare una passeggiata e a stare all'aria aperta, a toccare, giocare e avere a che fare con la scienza. Ci sono diverse installazioni tramite le quali potete imparare e vedere diversi fenomeni scientifici. Questo appunto degli specchi riflettenti che allungano, allargano, poi c'è anche qualcos'altro. Esatto, c'è il caleidoscopio, si può giocare con i colori, mescolare i colori primari, oppure si può parlare all'interno di quella specie di megafono e vedere con qualche amico entro quale ci si riesce a sentire. Quindi davvero tanto da poter fare qui ad Adegliacco e naturalmente dobbiamo anche lanciare l'appello basta vandali perché siete proprio voi che poi dovete correre ai ripari per i vari danneggiamenti. Questo parco è di tutti, bisogna saperlo contenere e mantenere in stato appunto di fruibilità. Sì, essendo pubblico è bello che possa essere utilizzato da tutti e tenuto nel miglior modo possibile. Grazie a tutti.